E sentiamo adesso le interviste realizzate durante la cerimonia di premiazione con il presidente delle due società sportive premiati. Cominciamo con Aurelio Ferroni per il Fertilia Calcio. Siamo in compagnia di Aurelio Ferroni, presidente del Fertilia. Avete ricevuto quest'anno il premio Panatron, il premio Fair Play. Che soddisfazione è? È una grossissima soddisfazione, soprattutto la motivazione per cui lo riceviamo. Lo riceviamo per il nostro impegno nel settore giovanile, nella squadra che tutte le domeniche varcano i campi di calcio. Abbiamo quattro squadre giovanili impegnate nei vari tornei. Ma permettetemi di estendere, io ritirerò il premio, non solamente a nome di Fertilia, ma a nome di tutte quelle persone che ogni domenica, ogni giorno della settimana si impegnano, non solamente per il Fertilia, ma per tutti gli sport e per tutte le squadre che mettono il loro tempo, la loro passione, il loro fegato e qualche volta anche le risorse economiche per stare vicino ai giovani, per toglierli qualche volta dalla strada. Non è solamente il Fertilia che fa questo lavoro, sono tanti. Noi lo stiamo facendo da diverso tempo, magari in maniera anche forse più analitica, più professionale, ma sono tanti quelli che ogni giorno della settimana dedicano il proprio tempo libero per la crescita dei giovani. Ed ora sentiamo invece il presidente dell'Alghero Marathon, Paolo Zoagli, altri premiati di questo premio Fair Play. Zoagli, presidente dell'Alghero Marathon, così come il Fertilia, anche la società che lei presiede ha ricevuto il premio dal Panathlon. Anche per voi è una soddisfazione? Beh, sicuramente una grande soddisfazione. Sicuramente questo premio ci è stato consegnato per la Corri Alghero, che è la nostra iniziativa principale. È una gara fondamentale per noi perché coinvolge atleti che vanno dai 4 anni, dai bambini, fino ad arrivare agli 80 anni. Noi abbiamo un nostro socio, Benito Casula, che ancora a 81 anni riesce a gareggiare, percorrere maratone, mezze maratone, ed è una cosa importantissima. Quindi però è una grande soddisfazione. Non abbiamo dei grandi campioni, però abbiamo delle persone che fondamentalmente si dedicano allo sport, praticano sport a tutta l'età. L'Avis comunale di Alghero, in collaborazione con la Facoltà di Architettura e Archimastria, hanno organizzato una raccolta di sangue. Domani, martedì 13 dicembre, dalle ore 8 alle ore 12, sarà presente presso la Facoltà di Architettura, l'ex asilo Sella, l'equipe medica dell'Avis provinciale, a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. E chiudiamo con una comunicazione. Nella serata di ieri è scomparsa, a causa delle complicazioni rispetto ad alcuni problemi fisici, Pinuccia Cocco, madre dell'ex sindaco di Algaron Marco Tedde. La donna aveva 82 anni. La nostra redazione, amministrazione e proprietà porgono le più sentite condoglianze a tutti i parenti. I funerali si terranno domani alle ore 16 presso la chiesa di San Giovanni Bosco. Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità tra poco. Grazie.